...como stato indipendente e spero che gli altri scatti rendano esempio da l'advocato. Duro con l'ipotesi del trasferimento dell'ambasciata degli Stati Uniti presso Israele da te la vita di aiutare. E questa sarà la decisione. Non aiuterà la scatta, ma è anche una scatta. Dopo l'udienza al Presidente palestinese, un severo risorso del Papa contro le conseguenze del capitalismo, l'economia dello scatto, a del cui ricevendo la prova di condizio, c'era anche il mare. Grazie. 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 Grazie.